Il Dienese ha giocato molto bene, ha giocato bene l'asferta, quindi speriamo una partita difficile, solo che mancano due mesi. Peccato, dovrai saltare Firenze, Nicolás, come sta anche il sesso? Io penso bene, ha preso una volta, penso che sarà una questione di pochi giorni, ma al di là di questo penso che il riparto defensivo sta facendo, sta passando un buon momento. Nicolás, ti immagino una finale qui a Roma contro l'Inter? Sì, manca ancora la partita nostra, la partita di loro, ma per noi è importante arrivare in finale, se gioca qui all'Olimpico con la nostra gente, sarà importantissimo.